Musica Quest'oggi intervistiamo Andrea Santoro, capogruppo di Futuro e Libertà per l'Italia al Consiglio Comunale. Ultimamente Futuro e Libertà ha preso una dura posizione nei confronti di Bagnoli Futura. Pare che la mission di Bagnoli Futura sia miseramente fallita. Qual è la vostra opinione relativamente a ciò? Noi l'abbiamo detto senza mezzi termini. C'era il rischio che Bagnoli Futura fallisse. Non è fallita, almeno non è fallita ancora, ma sicuramente ha fallito. Ha fallito quella che era la missione per cui era nata, quella di bonificare suoli e poi valorizzarli rivendendoli, li a Bagnoli, a Coroglio in particolare. Tutto questo purtroppo non è avvenuto. Sono stati sperperati miliardi di euro e questo è intollerabile perché Bagnoli poteva essere un'occasione di rilancio per la città, un'occasione per dare finalmente una vocazione turistica alla città di Napoli, per ridare il mare ai napoletani perché questa è una città che si affaccia sul mare, ma poi ad eccezione di quei 100 metri della rotonda Diaz praticamente Napoli non ha la possibilità di toccare il mare perché su tutto il litorale di Posillipo ci sono delle ville private che precludono l'accesso al mare perché nella zona a est vi è tutto lo svilupparsi del porto. L'unico momento in cui la città poteva riappropriarsi del mare era proprio rivalutando Bagnoli. Tutto questo purtroppo non c'è stato, noi abbiamo i suoli su cui la bonifica è stata fatta con grandi sofferenze. Abbiamo però ancora i fondali da bonificare, abbiamo ancora il grosso problema della colmata che sta lì ed è un sarcofago di cemento che non sappiamo che cosa contiene. Lì immaginate quanti detriti sono stati gettati dall'attività delle acciaierie, veramente non sappiamo che cosa c'è all'interno della colmata. Sappiamo però che a 4-5 cm sotto i fondali vi sono degli idrocarburi, quindi vi è anche il fondale che deve essere ancora bonificato. Non è un caso che tutte le asse che vengono bandite da Bagnoli Futura per la vendita dei suoli vanno deserte, è necessario sicuramente invertire la tendenza. Noi abbiamo voluto in qualche modo dare un'ennesima apertura di credito all'amministrazione comunale, non ci siamo posti in maniera senza pregiudizi, non abbiamo voluto infierire rispetto al fallimento di Bagnoli Futura e per questo abbiamo in qualche modo permesso che venisse approvata la delibera in Consiglio Comunale per una sorta di ricapitalizzazione della società. La società non navigava in buone acque, si è deciso di trasferirle la proprietà di un immobile alla porta del parco che era stata realizzata alla stessa Bagnoli Futura, questo serve in qualche modo a far fronte ai debiti che ha la società con le banche. Ovviamente stiamo parlando di una boccata d'ossigeno, ma se non si mette mano ad una profonda rivisitazione di quello che deve essere il futuro di Bagnoli e se non si dà veramente una missione seria a questa società, veramente anche questo ennesimo atto è stato inutile e dispiace perché, ripeto, questo rallenterebbe tutte le attività che sono state messe in campo, rallenterebbe quello che è lo sviluppo della città. Negli ultimi anni, o meglio dire negli ultimi decenni, sono stati investiti molti soldi su Bagnoli, ma dove sono finiti tutti questi soldi se poi alla fine i risultati sono questi? Il grosso dei fondi sono stati utilizzati per spostare il materiale da bonificare da un solo all'altro, alla fine hanno costretto a bonificare l'intera area, probabilmente inizialmente non ce n'era bisogno, loro a furia di spostare il terreno inquinato da una parte all'altra, hanno contaminato tutti i suoli e è stato necessario procedere con una bonifica anche di aree che probabilmente non necessitavano di tali interventi. Ma soprattutto poi sono stati sperperati per iniziative progettuali che secondo me forse non si legano neanche tra di loro e non hanno una prospettiva. Sono stati utilizzati infatti i finanziamenti europei per realizzare il Parco dello Sport, una bella opera che è completata al 90%, ma sono 4 anni che sta lì abbandonata perché la società non è stata in grado di pagare la ditta esecutrice dei lavori, noi corriamo il rischio che vengano vandalizzate, che comunque vengono deteriorate queste attrezzature prima ancora che fossero state formalmente consegnate. C'è il Tartal Point, la clinica delle tartarughe, un'altra bella iniziativa ma che è costata milioni di euro di finanziamenti europei che poi però non producono nulla, tra l'altro diventa un doppione della stazione d'Orno che già esiste l'acquario di Napoli all'interno della vila comunale, che senso ha a creare un duplicato lì a Bagnoli. Così come la stessa Beauty Farm, è stata realizzata una spa, un centro termale, sempre con i finanziamenti europei, che diventa il doppione di quelle che sono le terme di Agnano. Abbiamo realizzato un auditorium alla Porta del Parco, che è questa struttura che di recente è stata conferita alla società Bagnoli Futura dal Comune, che diventa un duplicato di quello che è il teatro mediterraneo che sta a pochi passi dalla mostra oltremare, che dovrebbe essere il centro congresso della città. Quindi si è scelto di dare vita a progetti che erano il duplicato di qualcosa già esistente in città, che non brillano di luce propria perché non hanno nulla di originale e che alla fine non sono in grado di creare sviluppo. Probabilmente si doveva lavorare un po' di più con una visione progettuale, probabilmente anche la visione con cui nasce la variante occidentale di Bagnoli, creare questo megaparco. Il verde piace a tutti, tutti siamo amanti della natura, ma sappiamo bene che creare questi megaparchi è difficile anche gestirli, è difficile anche garantire la manutenzione. Probabilmente si doveva ragionare in maniera più saggia su come utilizzare gli spazi per creare occupazione, quindi creare strutture ricettive, alberghi. Oggi invece abbiamo un piano regolatore che è estremamente vincolante e che probabilmente deve essere rivisto. Bisogna ripristinare la linea di costa, questo significa rimuovere la colmata, significa non realizzare il porto canale lì dove si vuole realizzare, perché sarebbe assurdo voler ridare il mare ai napoletani e poi andarci a creare un porto turistico lì. Noi dobbiamo fare in modo che quella zona possa essere balneabile. Questo significa anche rivedere quella che è stata una decisione sbagliata, che impegna per 70 anni l'amministrazione comunale a tenere città della scienza sulla spiaggia. Quello è stato uno degli errori più grossi che si sono stati commessi negli ultimi anni in città. Lì, città della scienza, una bella realtà dal punto di vista scientifico, che è costata anche quella milioni di euro, andava realizzata altrove. O all'interno stesso lì a Bagnoli o magari anche in un'altra periferia della città per rivitalizzarla, ma realizzarla sulla spiaggia è stata follia, secondo me, e anche quella scelta deve essere rivista. Insomma c'è ancora molto da lavorare? C'è ancora molto da lavorare e mi auguro che questa amministrazione comunale voglia in qualche modo dare un'inversione di tendenza con tutto quello che c'è stato finora, perché la storia di Bagnoli è una delle brutte pagine di questa città, perché poteva essere un'occasione di rilancio, e invece è stata la solita storia di sperpero di denaro pubblico. La ringrazio consigliere. Grazie a voi. Grazie a voi.